Buongiorno amici, ben ritrovati, eccomi qua per informarvi di quelle che sono novità, l'iniziativa della Casa di Trici Armando. Come forse molti di voi sanno, la settimana scorsa è stato bandito il concorso Scuola 2020. La Casa di Trici Armando da sempre è leader nel mercato della pedagogia, della formazione e della didattica. A maggior ragione quest'anno ancora di più, entriamo più approfonditamente nella formazione e abbiamo attivato una sinergia con due consorzi universitari, il Consorzio Universitario Humanitas e il Consorzio Fortuna. Ne è scatolito un corso di formazione online di preparazione per il concorso Scuola di 200 ore. Questo corso prevede video-lezioni, e-book, esercitazioni e test di approfondimento. Il corso è inserito nell'offerta formativa della piattaforma Sofia del Miur. Per iscriversi a questo corso dovete andare sul sito internet www.consorziohumanitas.com Ripeto, www.consorziohumanitas.com È possibile pagare anche con la carta del docente. Dopo questo video troverete sul nostro sito e sui nostri social network due brochure, due locandine. attinenti. L'una, l'informativa per tutto ciò che riguarda l'iscrizione al concorso Scuola 2020. E un'altra, relativa a tutti i volumi che possono essere utili per la formazione, volumi cartacei, per la formazione del concorso stesso, l'approfondimento del concorso stesso. Tra i vari volumi che abbiamo disponibili, vi segnalo quello più importante, che è questo. Si chiama Mare Magnum. Questo volume praticamente è, non è altro che un'opera creata da 500 docenti che in cinque anni hanno riunito le loro esperienze didattiche e formative affrontando in modo sintetico, ma nello stesso tempo esaustivo, tutti gli argomenti oggetti dei concorsi Miur. Questo è uno strumento unico ed è importante per tutti coloro che affronteranno la formazione ed è aggiornato a gennaio 2020. Quindi, ripeto, per iscriversi al corso dovete andare sul sito www.consorzio-umaitas.com e per tutti coloro che si iscriveranno entro il 15 giugno ci sarà uno sconto del 20% direttamente sul sito. E' stato un piacere, vi ringrazio e qualsiasi informazione troverete sulle brochure il sito dell'Armando, le email dell'Armando, le email del sito del Consorzio Fortuna e del Consorzio Universitario Miur. Grazie a tutti e alla prossima.